Facciamo la correzione della verifica sulla gravitazione universale. Allora, la prima domanda è che deve annunciare le tre leggi di Keplero sul moto dei pianeti attorno al Sole. E qui è abbastanza semplice, bastava solamente annunciarle. E la prima legge, in italiano non si dice che una legge annuncia, una legge afferma, stabilisce, ma non enuncia. Io enuncio la legge, ma la legge non enuncia, ok? Attenzione alle parole. La prima legge riguarda la forma dell'orbita. L'orbita di ciascun pianeta è un'ellisse col Sole in uno dei fuochi, ok? La seconda, presa l'ellisse, afferma che il raggio vettore, quello che va dal Sole al pianeta, copre aree uguali in tempi uguali, ok? E quindi l'orbita, essendo un'orbita a distanza variabile dal Sole, la velocità non è sempre la stessa. Quando il pianeta è più vicino è più veloce, quando è più lontano è più lento. Mentre la terza, confronto orbite diverse, e afferma che il cubo del raggio medio dell'orbita o del semiasse maggiore è proporzionale al quadrato dei tempi di rivoluzione, cioè dei tempi di percorrenza dell'orbita. D'accordo? Bastava solo annunciarne. Cresito numero 2, con i dati riportati qui a fianco, calcola la forza di attrazione gravitazionale con cui il Sole attrae la Terra. Quindi la forza con cui il Sole attrae la Terra forza sulla Terra vale, legge di gravitazione universale, G per massa del Sole, massa della Terra, distanza media al quadrato. Quindi viene 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri chilogrammi alla seconda, per la massa del Sole che è 2 per 10 alla 30 chilogrammi, per quella della Terra 6 per 10 alla 24 chilogrammi, fratto 1,5 per 10 alla 11 metri tutto al quadrato. Ok? Qui conviene fare prima i coefficienti, quindi prendo 6,67 per 2 per 6 diviso 1,5 alla seconda e ottengo il coefficiente e viene 35,57. Poi la corretta potenza è di 10, quindi ho 10 alla meno 11 più 30 più 24 meno 22 perché l'11 va moltiplicato per 2 visto che sono esponenti e viene 21 newton. Quindi in notazione scientifica 3,557 per 10 alla 22 newton. e per il terzo principio della dinamica la forza con cui la Terra attrae il Sole è esattamente la stessa. 3,557 10 alla 22 newton. Sono una propria azione e reazione. Guai se fossero diverse. Ok? Qui, attenzione, c'è tanti diversi errori sul calcolo delle potenze di 10. le potenze quando si moltiplicano gli esponenti si sommano, quando si dividono si sottraggono. Attenzione, proprietà delle potenze. domanda numero 3 illustra come la costante gravitazionale G questa ha permesso di misurare per la prima volta la massa della Terra. Beh, è sufficiente prendere immaginate che questa sia la Terra massa della Terra M grande un oggetto un sassolino di massa M piccolo la forza che agisce su M piccolo è la forza peso che vale M piccolo per G ma è anche una forza di tipo gravitazionale quindi sarà G massa della Terra massa del sassolino raggio della Terra al quadrato. Qui le due M si semplificano e viene G piccolo che vale 9,81 metri al secondo quadrato che è uguale a G grande massa della Terra raggio della Terra al quadrato. Allora, questo lo conosciamo G lo conosciamo G grande lo conosciamo R lo conosciamo da cui la massa della Terra vale l'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre per il raggio della Terra al quadrato diviso la costante G di gravitazione universale e viene appunto 2,0195 insomma per 10 per 24 kg ma questo posso farlo solo perché conosco G altrimenti non si può ci sono domande fin qui? bene allora, numero 4 se ci allontaniamo dalla superficie della Terra il nostro peso diminuisce perché? beh perché il peso fatemelo scrivere qui è questa forza che dipende dalla distanza dal centro della Terra ok? se io sono sfrutto l'immagine che c'è sotto questo è il centro della Terra e sono a distanza R dal centro della Terra allora la forza con cui la Terra mi attira che è il mio peso vale F E G massa della Terra la mia massa diviso R alla seconda ok? quindi se mi allontano se R aumenta il denominatore aumenta la forza diminuisce e diminuisce in ragione del quadrato della distanza quindi a quale distanza dal centro della Terra il nostro peso vale la metà di quello che abbiamo sulla superficie della Terra ok? quindi se questo numero deve essere la metà di quello che vale sulla superficie della Terra cioè quando R piccolo vale il raggio terrestre significa che vediamo se riesco a scrivere qua sotto il peso a distanza R vale G massa della Terra massa dell'oggetto diviso R alla seconda che è un mezzo di quello che ha sulla superficie della Terra cioè G massa della Terra massa dell'oggetto diviso il raggio terrestre al quadrato per cui se osservate queste due frazioni hanno lo stesso numeratore Gm grande M piccolo Gm grande M piccolo solo in una c'è R quadro l'altra c'è due volte RT quadro per cui R quadro deve essere uguale a due volte RT quadro cioè la distanza è radice di due volte il raggio terrestre radice di due è 1,4 quindi la risposta corretta era la A domanda numero 5 il raggio terrestre è stato misurato per la prima volta da Eratostene nel terzo secolo avanti di Cristo domanda numero 6 immagine di vivere su un pianeta P di un diverso sistema solare la stella A al centro del pianeta ha una massa M che è 8 volte quella del nostro Sole quindi scriviamo approfitto di questo spazio la massa della stella A è 8 volte la massa del Sole la distanza media del pianeta P dalla stella A è 2 volte quella della Terra rispetto al Sole quindi la distanza del pianeta P è 2 volte quella del pianeta della Terra rispetto al Sole quanto vale il periodo dell'oro del pianeta P rispetto all'anno terrestre allora equivale la usiamo la terza legge di Keplero qui abbiamo la stella A il pianeta P questa è la sua orbita ok e questo è il raggio meglio dell'orbita anche qui approssimiamo un'orbita circolare quindi abbiamo la massa M piccolo del pianeta P per la sua velocità al quadrato diviso R forse accelerazione centripeta vale G massa della stella A per massa del pianeta diviso il raggio dell'orbita del pianeta P al quadrato semplifico le masse i raggi questo anche è R P è nello scritto e V quadro è 2 pi greco il raggio dell'orbita del pianeta diviso il periodo al quadrato che vale G massa della stella A diviso Rp di conseguenza cosa otteniamo? beh fatemi scrivere qua sotto qui viene recupero un po' di spazio cancellando questo spolgo il quadrato 4 pi greco alla seconda Rp quadro diviso T quadro quindi l'orbita del pianeta P ha una durata T quadro che vale G anzi nel contrario scusate l'inverso perché T è a denominatore vale 4 pi greco alla seconda il raggio dell'orbita medio al cubo diviso G per la massa della stella A ma per avere il rapporto con le grandesse terrestri mi ricordo che la massa della stella A è 8 volte quella del sole quindi ho 4 pi greco quadro G 8 volte la massa del sole il raggio dell'orbita del pianeta P è il doppio di quello terrestre quindi qui ho 2 RT alla terza per cui in totale mi ritrovo 4 pi greco alla seconda G 2 alla terza che fa 8 volte il raggio dell'orbita della terra al cubo diviso 8 volte la massa del sole qui i 2 8 si semplificano e mi rimane che cosa mi rimane 4 pi greco alla seconda G su raggio dell'orbita terrestre al cubo diviso la massa del sole che è esattamente il periodo della terra cioè è un anno quindi la risposta il pianeta compie un'orbita in un anno terrestre proprio per il fatto che se ho la massa 8 volte più grande e il raggio doppio i 2 8 si semplificano ok domanda numero 7 data la massa della luna il raggio lunare e G quanto vale la velocità di fuga di una navicella spaziale che si trova a 4 volte il raggio lunare la velocità di fuga la scrivo qui BF è radici quadrati di 2 G la massa della luna diviso la distanza dal centro della luna d'accordo e quindi viene se R 4 volte il raggio lunare il 4 posso portarlo fuori e viene un mezzo della radice quadrata di 2 G massa della luna diviso il raggio lunare ora questa grandezza è 2,38 chilometri al secondo la sua metà è 1,19 quindi la risposta corretta ok era la B se mettete il numero nel loro opposto e tenete conto del fatto che c'è la radice quadrata viene circa 1,187 per 10 da 3 metri al secondo quindi 1,19 chilometri al secondo da una distanza di 4 volte il raggio lunare domanda numero 8 considera l'orbita del pianeta X attorno al Sole il pianeta X si trova qui quale del seguente affermazione è corretta il pianeta X è più veloce nel punto D ma il punto D è quello più lontano in base alla seconda legge di Kepler più sono lontano dal Sole più sono lento il pianeta X è più lento quando è lontano e più veloce quando è vicino quindi la A è falsa il pianeta X è più veloce nel punto B questa è corretta perché B è il punto più vicino vediamo anche le altre l'energia potenziale gravitazionale del pianeta X è maggiore nel punto B dell'orbita allora nel punto B la distanza è piccola essendo il denominatore il denominatore ha un valore più piccolo quindi l'energia potenziale più grande ma in segno negativo se ricordate il grafico dell'energia potenziale questo R questo EU il grafico è fatto in questo modo con iperbole quindi più piccolo è R più l'energia è grande ma in segno negativo ok quindi dove è più vicina è più negativa quindi è inferiore a tutte le altre qui l'energia potenziale è minima quindi la C è falsa poi il pianeta X è una velocità del punto A dell'orbita che vale il doppio di quella del punto C non è assolutamente vero in A e in C le distanze sono identiche quindi in questi due punti la velocità è circa la stessa ha solo versi diversi e quindi l'unica corretta è la B domanda numero 9 la Terra compie una rivoluzione completa attorno al Sole in un anno 365 giorni la distanza media tra Terra e Sole è 1,5 per 10,11 metri sapendo che il pianeta P compie un'orbita attorno al Sole di 686 giorni P in realtà è il pianeta Marte calcolo la distanza media del pianeta P del Sole anche qui mi serve la terza legge di Keplero il cubo della distanza media è proporzionale al quadrato del periodo per cui se faccio il rapporto tra i cubi dei raggi ottengo un numero uguale al rapporto dei quadrati dei periodi quindi la distanza media del pianeta P rispetto alla Terra tutto al cubo vale quanto il rapporto tra il periodo del pianeta P rispetto a quello della Terra alla seconda ok per cui la distanza media del pianeta P vale qui elevo 1 tutto alla terza il raggio della Terra per il rapporto tra i periodi alla due terzi e quindi viene RT cioè 1,5 per 10 alla 11 per il rapporto tra 600 dove era 685 diviso 365 in totale il risultato è circa di 1 punto 1 scusate un secondo quello qua 2 no scusate questo è ho letto male 2,28 per 10 alla 11 metri quindi la risposta corretta è la A ultima domanda la velocità di fuga della superficie di Marte vale 5,03 km al secondo per lanciare un raggio nello spazio che sia lontano definitivamente da Marte quindi che viaggia la velocità di fuga devo tenere conto anche della massa del razzo oppure no beh in realtà la velocità con cui devo lanciarlo è indipendente dalla massa vi ricordo che la velocità di fuga è uguale a 2 volte g la massa del pianeta diviso il raggio del pianeta qui la massa del razzo non c'è la risposta corretta è la A ok l'energia con cui devo lanciarlo sì perché l'energia è un mezzo della massa del razzo per il v alla seconda ok ma la velocità con cui devo lanciarlo è indipendente dalla massa dipende solo dall'accelerazione gravitazionale quindi dalla massa da g grande e dalla distanza a cui mi trovo dal centro del pianeta cioè ci sono domande apparentemente no ora mi fermo qui di